buongiorno come siamo in forma questa mattina come siamo in forma questa mattina dov'hai? ciao bimbina adesso vengo da te in quei pazzi squinternati dei tuoi figli ciao bimbina stiamo facendo le pulizie le pulizie di casa allora vediamo se riusciamo ora che non ci sei a riprendere no mamma no no mamma no ciao amore ciao ah come vecchi tempi o perché senti la caramella bimba c'ha qualche pulcetta eh che si fa che si fa guardate bimba guardate betty guardate betty betty una volta mozzica una volta beh non è che mozzica è molto molto gelosa dei suoi bimbi molto vediamo se riusciamo a prenderli a riprenderli aspettate 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 guardate che fa guardate che fa guardate che fa guardate la piccetta e la piccetta e la piccetta vogliamo vedere i figli tuoi mio amore entro entri pure tu già lo so sto qua sto qua mammina sto qua sto qua sto qua mammina che video terribile zoomato terribile vediamo se riusciamo a riprendere i tuoi figlioletti in maniera più chiara il mare in mano è quello bianco cioè è otto per otto c'ho una bocca esagerata ecco mamma betty mazza come sporco lo schermo ecco mamma betty che adesso vi faccio vedere l'istinto materno cioè chiusa praticamente a come si chiama ciambella e sti piccolini che si incazzano a morire ci sono tanto piccoli non li posso toccare aspetta non so se si riescono a vedere cioè praticamente lei fa questo tutti i momenti piccini che vogliono prendere il latte ce ne sono un paio piccoli piccoli tipo questa mucchetta e lei che le gira come un pedalino lì 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 e si povera ci quando potranno parlato lamma mamma e che cazzima che c'è tenuto come trocca asimente internazionale non lo so beh comunque mi piace bontà ma comincio a dare anche io un po' di testa ecco guardate come ricca cioè questo è tutto i momenti capito c'è una goccia di latte praticamente che c'ha e la fa andare di traverso e questa bianca che non riesce ad arrivare alla tettina poi c'è anche delle tettine minuscole minuscole ma dai cioè quello che non hai fatto da quando hai partorito mentre partorivi per i giorni successivi per due giorni lo stai facendo ora ecco qua è arrivato adesso il momento dei colloni quella nera comunque sono bellissimi qualcuno è estremamente picqua c'è completamente a testa in giù sono estremamente piccoli cioè considerando che cioè non c'hanno manco una settimana perché sono partoriti praticamente a giovedì notte quindi cioè c'hanno cinque giorni dico bene sì penso di sì vabbè no diciamo facciamo così andiamo tutti sicuro è partorita il freddici giusto quindi sì oggi è 19 sono sei giorni e secondo me per dei cucci sei giorni sono particolarmente grandi perché si spostano camminano però voglio dire tipo la mocchettina qui è piccina piccina utilizzare il pettine e poi c'è il mare in mano quello che praticamente prende un sol boccone sei mammelli comunque insomma non è facile Bimba e Betty è molto sempre insomma sull'agitato vero mamma però sei bellissima mo si le lecca un'altra volta poi si pulisce questi li fanno le tira volte e va bene io aiuto perché sennò vi annoio che prendo sempre però la bellissima giornata e l'avevo promesso volete vedere se ne prendo uno però non è detto che aspettate ah no mamma no 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 ah stamattina mi lechi stamattina mi lechi quando ne prendo uno per dargli il biberon praticamente le si alza dopo esattamente tre secondi e con la boccuccia con grande delicatezza se lo prende io chiaramente non non oppungo resistenza vabbè dai non ne prendo nessuno adesso perché sembrano tutti in posizione guardate questo nero col petto bianco guardate guardate mi lasci stare voglio il latte tu hai mangiato già ma sa quanto stanno a mangiare non vi dico le feci comunque Betti ha ripresa moltissimo e vai dai guarda il mare in mano guarda il mare in mano è pazzo è pazzo ok si è guidata al peggio mio ciao amore ciao salutiamo le zie salutiamo le zie ciao ciao grazie a tutti 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 è vero mamma grazie a tutti 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 ciao oggi è martedì ciao ciao come quello lì quella mucchettinalla mi fa tanta tenerezza perché è piccola piccola guardate come è piccilino ok basta che mi sono rinconita ci abbiamo tanto da pulire baci baci ciao 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 ciao